La skin può essere riscattata gratis per tutti i giocatori da pc su fornite Per ottenere questa skin molto semplicemente a partire dal 19 di maggio quindi da domani Dovete appunto andare nel store di Epic Games e comprare questo bundle che costerà esattamente 0 V-Bucks Quindi proprio come la skin di Rubino se vi ricordate dell'anno scorso Questa qua sarà una skin gratis che appunto verrà inserita quest'anno Quindi se avete un pc potete semplicemente ottenere questa skin Oppure ragazzi se non avete un pc che usate da console Potete ugualmente ottenere tutto questo set solo in un modo un pochino più particolare Ovvero dovete cliccare su un link che vi manderò con il video di domani Perché domani uscirà questa skin e vi farò un video a parte Su come averla appunto anche se non siete da pc Quindi ragazzi molto semplicemente a tenere il video di domani Per saperlo prima degli altri perché a tempo limitato E solo un tot di persone può affrontare questa skin da console Quindi like e iscrizione, clicca sulla campanella dell'unico Così saprai prima degli altri come ottenere questa skin Insieme ai codici del negozio oggetti di fuori per supportarli Detto questo grazie mille per il video e ci vediamo alla prossima